E questi apparei al centro del pavimento si andranno blocchi. Faccio io. Dobbiamo stare in campagna. Il posto è questo. Chiama Sam. Scorpione. Commetto che Avery era Scorpione. Cavolo! Mi ha sfondato i timpani! Hey Nate! Ha funzionato! Il blocco dello Scorpione si è aperto! Ok! Passiamo alla prossima! Acquario? Cavolo! Mi ha sfondato i timpani! Ne mancano altre due, ragazzo! Leone. Difficili da tomare. Cavolo! Il leone è aperto! Ok, ne manca uno. Oh! Mi sto tenendo la nausea. Ok. Ci sono. Sully, notizie di Sam. Niente. Starà penone. Forse ha dimenticato di mettere in carica il telefono. Arrivano dei tappi! Il sigillo di Avery è apparso sul pavimento. Eh? Tutto qui, niente. Però c'è una campana gigante in cima. Aspetta, io salgo! Meanwhile. Il sigillo di Avery. 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 Il sigillo di Avery.